Le sagre del comune di Arezzo possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per il 2016, sono infatti salve. Al centro della discordia la questione pizze, che aveva portato in un primo momento alle contestazioni e poi alla minaccia dello sciopero delle sagre. Ma la diatribe è stata finalmente risolta, almeno per quest'estate. Si potrà infatti fare solamente la margherita all'interno delle feste, ma senza la collaborazione dei pizzaioli professionisti, come era stato invece proposto. La nuova linea è quella che riguarda per quest'anno la pizza margherita per tutte le sagre prodotta direttamente dalle singole sagre, non più l'idea del consigliere che era quella di farla in collaborazione con i pizzaioli. La linea sui primi, sui secondi, sul resto del menù è molto meno rigida, a patto che comunque ovviamente si rispettino i criteri di tipicità. Se penso a tre mesi fa sono soddisfatto, sì, è certo. Io sono felice di aver potuto mettere insieme una squadra che fino a tre mesi fa non si conosceva, anzi posso dire che fino a tre mesi fa le sagre fra di loro si guardavano anche in maniera storta, perché c'era un po' di concorrenza e il classico campanilismo che ci contraddistingue. E vederli adesso, nelle serate in cui passiamo insieme, uniti a ridere e scherzare, mi rende orgoglioso e mi ripaga della fatica che abbiamo speso in questi giorni. Il prossimo capitolo sarà scritto martedì prossimo, quando si riunirà nuovamente, la commissione per analizzare gli ultimi dettagli riguardanti i menù proposti. Per quest'anno quindi tutto salvo, ma per l'edizione 2017 delle Feste Paesane, il destino rimane ancora tutto da scrivere. Mi piace pensare che possiamo fare quest'estate in serenità e affronteremo un problema alla volta, quello che sarà da mettere sul tavolo fra sei mesi soli.